Mi scusi per ritardo, ho sfruttato i 5 minuti ma forse mi sono dilungato un po' troppo. Anche questa mozione è una struttura molto semplice, come sapete questa amministrazione ha iniziato e improntato delle azioni di contrasto per lo sversamento illecito di rifiuti ma anche per il non corretto sversamento dei rifiuti nei cassonetti adeguati con delle azioni ben mirate e ben precise, una di queste per esempio è l'installazione delle telecamere un'azione svolta dal consigliere Di Palma, un'altra è l'aggiornamento, il lavoro sul regolamento sulla gestione dei rifiuti urbani fermo dal 2005 dove la consigliere Ficcardi ha presentato una delibera di indirizzo proprio per aggiornare questo regolamento e per inasprire le sanzioni che afferiscono al testo unico ambientale e un'altra è il regolamento sulle guardie ambientali promosso dal consigliere Ardo. Questa mozione cerca di aiutare e supportare Ama nelle azioni di contrasto allo sversamento illecito dei rifiuti dando la possibilità alla stessa azienda di eseguire un reperimento interno al fine di recuperare le più risorse possibili per l'ampliamento, per rafforzare il numero di agenti accertatori che oggi è formato da un numero esiguo di risorse. Oggi gli agenti accertatori sono all'incirca 38 per l'esattezza e come commissione abbiamo dato un indirizzo che è quello di estendere questo numero di agenti accertatori tramite un reperimento interno o tramite l'ausilio, l'accordo, vari protocolli di intesa che è possibile realizzare con le associazioni di volontariato. Questo perché aiuterebbe in modo molto efficace l'azienda Ama per contrastare chi in modo non corretto conferisce il sacchetto dei rifiuti o chi chiaramente svolge attività illecite riguardante il tema dei rifiuti. Sappiamo che in questo momento l'azienda non può assumere per motivi che già conosciamo e che non vogliamo chiaramente qui in questa sede ripetere, però quello che l'azienda può fare è quello di reperire appunto un personale interno che oggi o che è minore a gravi o che comunque svolge un ruolo insomma come dire utile ma comunque che potrebbe essere maggiormente diciamo efficiente e risolutivo all'azienda soprattutto sul tema del contrasto dell'abbandono dei rifiuti. Perciò ecco l'azienda può tranquillamente tramite il suo database usufruire di un reperimento interno proprio per aumentare il numero di agenti accertatori perciò insomma ecco un indirizzo molto semplice, molto stringato ma che la Commissione Ambiente ha voluto comunque dare con forza all'interno della seduta di poco tempo fa. Aggiungo anche Presidente che il voto chiaramente sarà favorevole e spero che le forze di opposizione insomma almeno su quest'atto che riguarda Ama insomma diano un indirizzo insomma unanime appunto a questa maggioranza e non lo contrastino come sulla prima mozione. Grazie Presidente.